Solidarietà, vicinanza e sostegno nelle difficoltà del popolo ucraino arrivano anche dal Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano che in questi giorni è al lavoro per raccogliere quanto necessario per i tanti profughi dell'Ucraina che stanno scappando dalla guerra e tantissimi che al momento si trovano ancora in Ucraina nel tentativo di mettersi in salvo da questa terribile guerra che ha investito la loro patria. Ed è proprio alle milioni di persone che tentano di fuggire che sono rivolti gli aiuti del Lions Club Sala Consilina presieduto da Vincenzo Puglia. In Ucraina il dramma che si sta vivendo costringe a scappare e a lasciare le proprie case portando con sé lo stretto indispensabile viaggiando quindi sprovvisti praticamente di tutto in una condizione che espone la popolazione a forti rischi e tante difficoltà. Per alleviare laddove possibile gli enormi disagi i soci del Lions hanno voluto effettuare una raccolta di beni prevalentemente farmaci alcuni dei quali sono già partiti verso l'Ucraina a bordo di un camioncino guidato dal presidente stesso del Lions Vincenzo Puglia che ha abbracciato con forza la causa come tutto il club. Un primo carico di farmaci partito nel pomeriggio di ieri. Grazie al nostro presidente, dichiara Rossi Pepe del Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano che con spirito di abnegazione è stato disponibile ad affrontare il viaggio della solidarietà è partito il primo carico per l'Ucraina. Altri scatoloni saranno pronti per la prossima settimana. Le medicine, spiega, saranno catalogate per la loro specificità con la scritta in lingua ucraina grazie all'ausilio di alcune signore ucraine. Ringraziando tutti i soci che hanno collaborato attivamente all'iniziativa fin qui messa in campo Rossi Pepe sottolinea Il nostro lavoro non finisce qui siamo solo all'inizio di un lungo percorso che ci vedrà sempre più impegnati per far fronte comune all'emergenza umanitaria. Intanto per oggi è prevista una nuova consegna di farmaci destinati all'Ucraina alla Caritas.